eccoci in questo nuovo video su youtube io sono luca e in questo video voglio condividere con te quali sono i tre livelli di consapevolezza basici dei clienti passiamo subito a video partiamo sempre dal presupposto che l'obiettivo del marketing è spiegare al cliente perché deve acquistare da te un tuo prodotto un tuo servizio piuttosto che da qualsiasi altro concorrente e piuttosto che non fare nulla per essere ancora più specifici gli obiettivi del marketing sono far sì che la persona tuo potenziale cliente percepisca la tua idea differenziante come maggiormente adatta a lui e alla sua situazione far sì che il cliente creda a ciò che affermi quindi via libera a testimonianze elementi di prova referral e a tutto ciò che può aiutarti ad aumentare il tuo livello di autorità e di credibilità agli occhi di quello che può essere e diventare un tuo cliente far sì che la persona agisca comprando direttamente o chiedendo l'intervento di un venditore un commesso o un addetto la famosa customer care o comunque assistenza possiamo considerare a fronte di questi tre obiettivi principali che abbiamo visto e fondamentali è chiaro che le persone non sono tutte uguali e non provengono tutte dallo stesso background per questo motivo possiamo individuare l'argomento di questo video tre livelli di consapevolezza base basici dei tuoi clienti o potenziali tali in realtà sono di più e più complessi ma in questa fase mi interessa che tu sappia riconoscere almeno tre macro categorie la prima persone che non ti conoscono non conoscono la tua azienda e non conoscono il tuo prodotto e servizio punto due persone che hanno sentito nominare la tua azienda il tuo prodotto e servizio ma che non hanno comprato quindi non sono diventate due clienti il terzo punto persone che hanno già comprato qualcosa la tua azienda e magari possono testimoniare del beneficio che hanno tratto acquistando il tuo prodotto o il tuo servizio a questo punto come devi gestire il marketing in base quindi a questi tre livelli di di consapevolezza partiamo dalla prima categoria di persone quindi le persone che non ti conoscono non conoscono la tua azienda non conoscono il tuo prodotto non conoscono il tuo servizio ciò che fai con loro risente di ciò che stai già facendo con gli altri e chiediti le persone che stanno già comprando da me perché lo fanno perché comprano da me se trovi una risposta a questa domanda puoi risolvere il marketing a ritroso quindi andare a costruire una strategia a ritroso non puoi farlo al contrario le persone comprano da te perché sei il leader indiscusso su quel tipo di prodotto servizio in quel tipo di settore le persone comprano da te perché sei il co leader quindi sei al pari di un'altra azienda di un altro tuo competitor o perché sei sotto le prime due categorie quindi sei considerato come l'offerta più vantaggiosa magari anche se non la più premium prima devi quindi fare campagne volte a stimolare ed educare le persone che hanno già comprato da te quindi devi fare marketing educativo per spiegare loro il tuo posizionamento le tue caratteristiche o i tuoi valori la tua mission la tua vision devi quindi spiegare alle persone perché devono continuare a fare business con te e quindi una volta che ci sei riuscito devi raccogliere tutte quelle che le sono le testimonianze dei clienti soddisfatti e farne tesoro in seguito potrai mettere in campo campagne per persone che non hanno ancora comprato ma che sono magari già entrate in contatto con te sfruttando tutti quegli elementi testimonianze eccetera che hai ottenuto creando un buon posizionamento offrendo un prodotto servizio a persone che hanno già comprato da te quindi possono farti da testimonial e quindi generare quello che è un effetto volano per aumentare il tuo numero di clienti e vendite solo successivamente a questo potrai creare campagne per le persone che non ti conoscono e che devono iniziare ad aprire i loro portafogli questo infatti è il primo livello di consapevolezza ma è contemporaneamente anche quello più distante dalla vendita per te perché di fatto queste persone magari non ti conoscono non sanno c'è effettivamente non ti conoscono non sanno chi sei non sanno il tuo prodotto non si fidano devi costruire una relazione con loro e quindi non ha senso iniziare a fare marketing su questo livello di consapevolezza perché è un pubblico quello che in gergo si dice freddo perché di fatto è una persona che non ti conosce con cui non hai mai creato relazione non ti ha mai visto non sa chi sei perché di fatto questa è la fetta appunto di potenziali clienti più distante e costosa proprio perché non ti conosce e deve iniziare ad approcciarsi al tuo business alla tua attività al tuo prodotto servizio per poi passare agli altri step inizierai quindi da chi sta già acquistando poi andrai su quelli che sono i clienti persi che ti daranno un'ottima mano per capire cosa non ha funzionato magari quindi per cercare di creare quelle dinamiche per evitare di perderne altri quindi poi infine andrai su chi ti conosce ma non ha ancora acquistato e via così il marketing come hai visto come poi ti ho spiegato in queste poche righe si fa a rovescio devi partire al contrario quindi prima devi sistemare le persone che stanno già comprando da te perché sono la tua base di clienti quindi sono quelli che fanno la tua forza quelli da cui puoi trarre spunti a cui puoi ottenere testimonianze puoi ottenere appunto spunti per capire come ottimizzare tutto il processo di acquisto e soprattutto evitare di perderle perché hai già acquisito la loro hanno già fiducia in te e quindi devi cercare di mantenerla perché ti daranno un tanto valore nel tempo continueranno ad acquistare da te quindi devi spiegare loro perché devono preferire te e portarli da mi hai scelto perché ti sembrava l'alternativa economica in mezzo a tanti a in realtà mi hai scelto perché sono il più adatto alla tua situazione specifica o alla problematica che il mio prodotto il mio servizio può andare a risolvere o promette di risolvere per questo video è tutto spero che questo contenuto ti sia stato utile se così fosse ti invito a lasciarmi un like e iscriverti al canale perché per me sarebbe molto importante mi darebbe una grossa mano nello sviluppo di questi contenuti e soprattutto raggiungere con questi contenuti più persone possibili che sono interessate appunto a questi argomenti e iscrivendoti al canale potrai ricevere le notifiche quando uscirà un mio prossimo video per questo video è tutto noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao